I soldi ti dà buoni? Di solito ma è buono, i soldi La famiglia Tarallo? La famiglia Tarallo Che fanno la famiglia Tarallo? Famiglia Tarallo Dai La famiglia Tarallo La famiglia Tarallo Lo fanno dopo tanto Con chi? E... Il figlio d'Italia è un uomo I figli d'Italia è uno La famiglia Tarallo La figlia d'Italia è un uomo L'italiano è un uomo L'italiano è un uomo Mettete dentro la finestra Perfetto Ora dimmi Non fare tanti con la famiglia Tarallo Lo fanno dopo tanto la figlia d'Italia L'italiano è un uomo Aspetta Ridillo Uno, due, tre Aspetta Vai Lorenzo Abbassati Parti sempre da lì 3, 2, 1 Vai Uno, due, uno Uno, uno Un uomo Un uomo Un uomo Un uomo Guardate Sul cuadernio Un uomo Uno, uno Un uomo Un uomo Un uomo Un uomo Non ridere, non ridere, mandaglielo via, dai. Non ho fatto un po' tardi, ho fatto un po' tardi. Rifallo, vai, va bene così, rifallo, però finisci la parola, anche se sbagli, finiscila, non aver paura, vai, buttati, fai giù. Non ho fatto un po' tardi, ho fatto un po' tardi. Con la famiglia Taranto. Con la famiglia Taranto. Che è andato a fare la lotta. Sì, a te stai bella, fagliela fare io, che fa la notte? Che fa la notte? Che fa la notte? A le cascine. A cascine. Vai, ridigelo. Ridigelo, ridigelo. La preta. No, non fare tardi con la famiglia Taranto. La prima, la fatta a potata, la prima. Ok, aspetta, mandalo via, dai, Taranto, mandaglielo un attimo via. Ora vengo qui proprio su di te, eh, Lori. Shhh. Grazie.